Il tornado che si è abbattuto su Firenze nella serata del 1 agosto ha devastato anche aziende agricole con danni fino al 100% delle produzioni ortofrutticole, distrutto capannoni, ma anche serre, magazzini e annessi agricoli. Lo afferma la CIA, i cui tecnici stimano inoltre un milione di euro i danni. I problemi più gravi sono segnalati per aziende del comune di Firenze, ma anche nei comuni di Pontasieve, Fiesole e Bagno a Ripoli. Per alcune imprese danni toccano i 150.000 euro. Come accade ormai di frequente, commenta Filippo Legnaioli, presidente dell'area metropolitana CIA Firenze Prato e vicepresidente della CIA Toscana, questi fenomeni, come la tromba d'aria dei giorni scorsi, colpiscono una zona circoscritta e in quel punto ci sono danni molto gravi per le aziende. È urgente modificare anche gli strumenti di risarcimento che oggi abbiamo a disposizione. La CIA Toscana chiederà l'attivazione dello stato di calamità, ma soprattutto chiediamo il ristorno del 100% dei danni. Intanto la Giunta Comunale di Firenze, riunita nella sede della Protezione Civile all'Olmatello, ha approvato ieri sera la delibera con gli sgravi sulla COSAP per coloro che hanno subito danni a causa del nuvifragio di sabato scorso. La delibera prevede che fino alla fine dell'anno non sarà dovuto nessun pagamento del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i ponteggi finalizzati a ripristino degli immobili danneggiati dall'umifragio.